una tre giorni con la commedia in maggio a partire dalla giornata odierna venerdì 19 gennaio una commedia scritta e diretta da ben maggio liberamente ispirata a fatti realmente accaduti noi abbiamo il regista in collegamento con noi ben trovato una tre giorni particolari dove il lavoro non mancherà ma soprattutto anche il divertimento potremmo così dire assolutamente il divertimento importantissimo noi come sa portiamo la storia della famiglia maggio i maggio erano degli attori molto bravi nel drammatico ma soprattutto comici quindi come potremmo non parlare di loro se non attraverso degli sketch dei momenti comici naturalmente parlare di maggio sicuramente non è stato una cosa scontata spesso la tradizione non viene calcata non viene ricordata era importante ricordare una delle famiglie più importanti nella storia del teatro non soltanto napoletano ma italiano e quale cosa più bella se non i maggio stessi c'è gli eredi di questa famiglia che li portano in scena una commedia che ambientata durante la seconda guerra mondiale ciò fa comprendere non solo l'importanza possiamo dire della commedia in sé per il divertire ma anche l'importanza al punto di vista storico è importante segnalare dove è ambientata tale commedia per dare anche una sorta di struttura una sorta di senso per fare anche riflettere no su quello che viene poi trattato all'interno assolutamente sì diciamo che la trama in realtà è un escamotage per raccontare poi dei fatti veramente accaduti alla famiglia maggio il la seconda guerra mondiale è stato scelto come periodo per calcare la crisi del teatro il teatro è sempre stato in crisi e lo sappiamo noi che abbiamo passato il periodo del covid e quindi è anche un modo per collocare questa famiglia delle difficoltà di quello che hanno dovuto passare durante gli anni momenti di crisi cosa che oggi non si riconosce tanto perché oggi gli attori gli artisti in genere tendono a raggiungere subito l'obiettivo senza una gavetta un sacrificio e questo è veramente un peccato e sbilisce parecchio l'arte secondo me perché il vero artista è quello che soffre la fame in questo caso quindi parliamo della seconda guerra mondiale dove in maggio si sono dovuti riunire per forza e cercare di fare uno spettacolo tutti insieme che poi alla fine nella realtà non hanno mai fatto ma forse nello spettacolo lo faranno possiamo dire che ha fatto un esempio molto importante l'attore deve sentire suo quello che è lo spettacolo è cambiato tanto il modo di fare spettacolo in questo periodo in questi anni in questi decenni però questa commedia ripercorre è un po un'unione fra il passato e il presente no cercare anche di dare una sorta di messaggio ai giovani attori assolutamente sì diciamo che per sapere dove stiamo andando bisogna anche sapere da dove veniamo in maggio fanno parte di una generazione di attori che hanno creato il teatro moderno e come l'hanno creato prendendolo dalla vita da quello che era la vita per strada oggi ragazzi gli artisti vivono poco la strada e invece molto importante addirittura massimo troisi entrava nei bar con un fogliettino di carta si scriveva le battute che sentiva all'interno del bar dietro gli scontrini ma così hanno fatto tutti ed è importante ricordarlo importante ricordarlo che artisti non si diventa ma si nasce soprattutto si cresce ricordiamo infine gli orari e soprattutto dove si può assistere a tali spettacoli sì esatto noi siamo alloiav club alla riviera di chiaia siamo questa sera debuttiamo alle 20 e 30 poi domani alle 20 e 30 e poi concluderemo domenica questa tranche alle ore 19 e 30 quindi vi aspettiamo a teatro si deve andare a teatro è importante coltivarlo soprattutto in questo posto lo yab club che è un posto veramente meraviglioso dove si parte a 360 gradi consiglio ai napoletani di andarlo a visitare assolutamente grazie mille per l'intervento grazie a voi un saluto a tutti i telespettatori grazie grazie ancora grazie a voi